Sì, è successo un incidente, un incendio, ma quelli erano drogati e prostitute. E' spacciatore, lo so, abito qua da 50 anni, schifa, di quel palazzo schifa, è schifosa, è schifosa. E' un posto molto difficile, ma finché troviamo sta gente abusiva, drogata, spacciatore, prostitute, perché ci sono i drogati, ci sono gli abusivi anche bravi, io li ho conosciuti, ma ci sono le merde. E' un posto molto difficile, ma è un posto molto difficile. Grazie a tutti.